siamo live siamo live benvenuti ragazzi in questa nuova fantastica diretta ovviamente di lunedì sera oggi è lunedì credo non mi ricordo neanche più che giorno sia sono appena tornato da tre giorni di fuoco a rimini non per andare alla notte rosa ma per studiare per voi ragazzi perché siamo andati io e Dave ad un corso intensivo intensivo di di marketing di uno dei più bravi bravi consulenti marketing al mondo di processi aziendali eccetera è stato stato veramente due giornate assurde bellissime e ne vedremo delle belle adesso aspettiamo che qualcuno si colleghi perché non c'è nessuno e quindi siamo sono io a parlare con me stesso oggi non c'è Dave perché si è licenziato e purtroppo si è licenziato no non sto scherzando ragazzi oggi non aveva voglia di essere qui ancora sto scherzando aveva un impegno aspettiamo un attimino che si colleghi qualcuno e oggi spieghiamo l'argomento della diretta dai ragazzi una persona collegata ci deve stare lo so che iniziato un pochino prima del 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 previsto aspettiamo che che ci sia qualcuno la prossima volta inizierò con una con con la musica metterò la musica di sottofondo una persona collegata ciao chiunque tu sia benvenuto in questa fantastica diretta ho iniziato blatterando cose non ho non ho annunciato assolutamente niente non ho spiegato niente di questa diretta lo scoprirai questa sera appena si connette la seconda persona e abbiamo la seconda persona collegata commentate ragazzi raga ditemi innanzitutto se si perché ho queste cuffie qui che sono nuove comunque non le ho mai usate voglio vedere se funziona mi raccomando quando dovete fare i commenti quando commentate scrivete il vostro nome e il commento perché io non vedo chi sta scrivendo con questo programma qui quindi se avete delle domande volete parlare eccetera scrivete chi siete tanto fate una prova si sente si sente il microfono dai qualcuno commenti almeno partiamo con la lo spiegone noiosissimo di questa sera ciao scagno tutto bene si sente ok credo che si senta perché se se hai commentato credo credo si senta allora ragazzi questa sera questa sera tratteremo di un argomento molto molto bello succulento adesso io non so se ho scelto l'ora giusta per essere in diretta bella cri tutto bene allora ok si sente tutto a posto fin ormai sei un tecnico del suono cre tre persone siamo allo stadio ragazzi chissà se arriva anche la quarta abbiamo avuto dei picchi assurdi l'altra volta tipo a eravamo in venti collegati non so che cazzo non c'aveva niente da fare nessuno comunque ragazzi bando alle ciance stasera parliamo del protocollo briatore chiamato questa questa live un po modo provocatorio che stasera andremo a trattare del come alzare i prezzi nel vostro negozio di igiene alimentari ristorante ok se così vogliamo anche trattare i ristoranti take away azienda agricola che comunque vende al b2c quindi al cliente finale quindi la domanda da cui vorrei partire questa questa sera è come mai adesso voglio una risposta da chi è collegato lo sapete no che c'è stata la polemica in questi giorni in questi giorni queste settimane di briatore che è uscito sui giornali è uscito con un con un video dicendo che erano tutti i coglioni che chi fa la margherita ad un prezzo stracciato non ha dei grossi problemi perché non paga di in realtà la maggior perché è vero è la maggior parte delle persone paga in nero la maggior parte delle persone non non usa ingredienti di qualità eccetera eccetera comunque è uscita la storia si è scatenato un putiferio perché lui in fin dei conti che cosa fa lui ha questo negozio negozio questo ristorante il crazy pizza ne ha più di uno in giro per il mondo dove vende la pizza marinara a 14 euro la pizza più diciamo costosa che vende è quella da 65 euro 60 euro una roba del genere con sopra il ok molti hanno detto che era un prezzo ingiustificato dato che comunque se fai la somma dei degli ingredienti possono essere quelli più qualità del mondo ma non non arrivi a quella cifra ed è impossibile io ho detto la mia in questi giorni credo di avere anche fatto un video al riguardo che è uscito tra l'altro oggi che è sui margini e cose così che vi invito a guardare perché è molto molto bello mi auto celebro da solo così e niente si è scatenato sto casino dicendo che la pizza è un prodotto popolare quindi il prezzo va mantenuto basso cazzata che non vuol dire assolutamente niente se poi ci sono dei napoletani collegati qui commentino e mi insultino però non vuol dire assolutamente un cazzo la pizza non è di napoli non è per forza di napoli a mio parere in questa diretta capiremo tante cose del perché certe persone come briatore news ret vi ho fatto questo esempio perché penso che lo conosciate quello che fa così con col sale e prezza la carne a livelli stellari se andate nei loro locali ok perché alcune persone come loro riescono apprezzare i prodotti a livelli assurdi mentre voi te che ci stesse che mi stai seguendo anche se hai il prodotto che nicchia della qualità migliore del mondo appena alzi il prezzo soprattutto in questo momento un po di crisi i clienti magari ti bestemmiano dietro magari non è il tuo caso è magari non è il tuo caso però potrebbe essere oggi andiamo a capire quali sono gli elementi qual è il metodo che ti può permettere di aumentare i prezzi anche senza basarti troppo sulla qualità del prodotto anche perché io ho visto un un video di vincenzo viscusi che è un influencer della pizza che è andato a testare la pizza di briatore ha detto che fa cagare fa schifo perché quando ci mettono sopra il patta negra praticamente il non è che lo mettono a freddo i geni lo mettono nel forno quindi praticamente si bolle e sa di vivo cioè sa di carne morta quindi quindi non è neanche la qualità come come cotto il prodotto il segreto comunque partiamo da dall'inizio come mai secondo voi c'è c'è gente che riesce a fare questi prezzi datemi datemi la vostra dai mi basta una risposta per andare avanti sarò sarò molto buono kri io so che ci stai seguendo cazzo dammi la tua secondo te perché certi personaggi anche news retto anche altra gente che conoscete potete anche farmi degli esempi vende prodotti che sarebbero normali considerati normali a dei prezzi assurdi e c'è la gente che li compra perché vi dovete ricordare che anche tipo i prodotti del mannarino per esempio ciao chi sei non so chi sia scrivete il nome davanti ok vi ricordo che ci sono ci sono dei locali che questi locali appunto che fanno i prezzi veramente alti veramente alti sono sempre pieni sono sempre pieni hanno la fila fuori e la gente è un po cristian ok cristian ok cristian paghi paghi il loro brand oggi ne parliamo minchia e kri è già uno dei nostri studenti avanzati loro sono molto bravi hanno iniziato da poco e già se ne sta intendendo di alcune cose oggi spiegheremo le tre fasi con cui dovete diciamo riprogettare il vostro negozio per tac alzare il alzare il prezzo dei vostri prodotti angelo bomboloso perché non non vedo i i nomi comunque ciao ragazzi ciao a tutti allora partiamo come sempre dal principio e dal problema fondamentale esistono commercianti che farebbero morirebbero per vendere le cose ad un prezzo basso ok ok ciao angelo esistono persone che morirebbero per vendere le cose ad un prezzo basso nel senso che al giorno d'oggi ci sono commercianti io li vedo tutti i giorni ok persone che sono convinte che il modo migliore per attirare le persone chiaro questa rai sarà disponibile dopo sta registrando quando ora non riesco a seguire sì non so chi sei però sì sarà sarà registrata dopo dopo la metto subito su su facebook stavo dicendo che al giorno d'oggi o comunque da sempre sono sempre state dei negozianti di genere alimentare aziende agricole chi più ne ha più ne metta ok anche a ristoranti che pensano che l'unico modo per attirare le persone nel loro negozio per farli venire farli fare il famoso passaparola perché tanto non fanno un cazzo ok sia quello di tenere il prezzo buono e la qualità buona che non vuol dire un cazzo tutte e due le cose perché prezzo buono dipende da cosa dipende come diciamo sempre dipende sempre dal tuo target dalle persone a cui ti rivolgi quindi a persone cioè per una persona ricca 40 euro per un conto è pochissimo per una persona povera 40 euro per un conto è tanto ma non non ha non ha senso su questa cosa e la qualità buona che non vuol dire assolutamente un cazzo perché come diciamo sempre praticamente la gente è invasa dalla qualità cioè paradossalmente anche in alcuni supermercati ci sono dei reparti dove vendono il formaggio che è il top di gamma eccetera quindi non venite a minare con la qualità del prodotto perché è una stronzata ok e quindi si pensa che l'unica cosa l'unica l'unico differenziale per per una per un'attività per competere con i concorrenti eccetera sia il prezzo io faccio il gelato a 2 euro e 50 se se lui lo fa a 2 euro mi fotte ok e si fa così si fa così bene o male si fa la lotta del prezzo tra poveri e poi si vedono ci sono queste questi scenari che sembrano alieni dove c'è della gente che esce fuori ed è un nostro progetto tra l'altro che stiamo mettendo in piedi esce fuori con i prodotti fuori dall'ordinario gente che fa pagare le amarene 70 euro al chilo i porcini 70 euro al chilo avevo visto una volta in svizzera e vendono cioè vendono come dei pazzi christian ha dato la sua paghi il loro brand stasera vedremo che cos'è che pagate che cos'è che pagate dovete far pagare per aumentare i vostri prezzi la cosa una cosa è certa ok il metodo che vi insegnerò stasera è quello che vi tirerà fuori da tante rotture di coglione vi metterà chiarezza per quanto riguarda come sopravvivere durante questo periodo di crisi dove tutti si sono impoveriti eccetera eccetera che è vero non è vero non siamo qui a discutere avevo già detto la mia un po di tempo fa ok allora adesso condividiamo lo schermo perché io vi ho fatto dei disegnini prima perché se no mi confondo sono una persona totalmente distratta adesso vi vi condivido lo schermo almeno iniziamo questo questo spiegone didattico molto noioso allora condividiamo lo schermo eccoci qui raga lo vedete sì lo vedete allora malattia iniziamo con questa parola allora nel mercato italiano c'è una malattia c'è una malattia che sta imperversando di cui siete tutti affetti ragazzi né 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 più né meno anche cristian e davide della macelleria davide cristian sono sono affetti da questa malattia contagiosissima che non sto scherzando ragazzi tende a fottere la maggior parte dei commercianti di genere alimentari là fuori e le aziende agricole come si chiama come si chiama questa malattia dai vorrei sapere un attimo la vostra prima prima di di procedere secondo voi ok se vi devo fare una domanda ok interrompiamo la presentazione qual è la malattia che in questo periodo non solo in questo periodo imperversa nel nel business della vendita di generale alimentari secondo voi mi basta una risposta per andare avanti dai ragazzi il più il più coraggioso vince il premio comunque ragazzi novità dato che un ragazzo molto bravo anche lui rinizierà a settembre perché sono uberati di lavoro per per questo lui ha un ortofrutta per questo diciamo istante saranno uberati sono stanchissime eccetera riniziamo a settembre quindi c'è ancora un posto libero per le candidature al percorso avanzato è entrato a scania adesso è entrato entrato carlo adesso abbiamo ancora un posto e siamo e siamo full quindi vi metterò poi il link nei commenti per per le come si chiama le consulenze gratuite con noi così almeno vediamo se riusciamo a lavorare insieme insieme a voi raga scrivetemi secondo voi qual è la malattia che affligge in questo momento i negozianti di generale alimentari ora qual è il vostro il problema di cui magari non ve ne rendete neanche conto cinque quattro tre due dai raga uno siete troppo timidi zero siete troppo timidi dai ve lo dico io allora la malattia di cui in questo momento si sta soffrono i commercianti di generale alimentare si chiama commoditizzazione ok è una parola che esiste in in italiano commoditizzazione cosa vuol dire commoditizzazione vuol dire che il prodotto il prodotto di qualsiasi ma di qualsiasi business non solo dei generali alimentari ma in particolare del dei negozianti di generale alimentari di alla tendenza nel tempo quindi da da quando nasce a quando a quando muore il business dei del dei generali alimentari quindi mai quindi dall'inizio a e soprattutto nell'ultimo periodo alla tendenza a commoditizzarsi quindi in questo in questo periodo assistiamo ad un evento che consiste in che cosa praticamente la gente se una volta era disposta a pagare dei prodotti ad alto prezzo ad alto prezzo anche normali anche che che avessero una qualità buona ok adesso non è più così assistiamo ad un fenomeno che si chiama commoditizzazione perché cos'è la commodity la commodity è praticamente un appiattimento generale delle percezioni per quanto riguarda il vostro prodotto che è commoditizzazione vuol dire che la gente è talmente sommersa da prodotti buoni prodotti è talmente per un macellaio è talmente sommersa da carne talmente sommersa da gelati è talmente sommersa da frutta e verdura che non riesce più a distinguere quale quale sia il motivo per il quale debbano pagare di più da voi ok quale sia il motivo per cui loro debbano svuotare il loro portafoglio per che cosa questa è la domanda quindi commoditizzazione vuol dire che tutto soprattutto il cibo si sta sta diventando un bene un bene di consumo comune ok non è più percepito come qualcosa di valore le cose stanno perdendo valore e voi ci state rimettendo nei margini i margini si assottigliano sempre di più è una tendenza di mercato ragazzi non potete fermare questa cosa qui come come per me sta diventando difficile anche fare pubblicità su facebook perché il costo della pubblicità è molto alto e va sempre alzandosi stessa cosa per i negozi di genere alimentari è difficile vendere i vostri prodotti perché la gente è talmente c'è talmente tanta competizione che è sempre più difficile diciamo venderli a dei prezzi alti ora dobbiamo fare una distinzione qui vediamo facciamo una distinzione tra il periodo pre internet e periodo post internet allora se prima e credo che voi ve ne siate resi conto se le persone che magari sono aperte da anche più tempo ok basta aver aperto già nel 2010 e ve ne rendevate conto già in quel periodo lì non c'era così tanto internet come come oggi non c'era così tanto scambio informazioni comunque il periodo pre internet su che cosa si basava fondamentalmente allora nel periodo pre internet bastava aprire un negozio quindi per un negozio di quartiere essere magari gli unici che facevano quella cosa lì il macellaio della zona e la gente veniva da te era il ben godi quindi il business era basato sulla geografia locale i business che andavano bene erano tanti in realtà erano non era difficile andare andare bene con questo genere di negozi proprio perché bastava come si chiama aprire la gente veniva e buonanotte perché perché le info le informazioni erano poche asimmetriche vi faccio un esempio quando devo andare a comprare vi faccio un esempio sulle sulle scarpe non so sulle scarpe magari prima prima di internet che cosa che ne so c'era mimmo il calzolaio che vendeva le scarpe era l'unico del paese tu andavi mimmo ti poteva dire quello che cazzo voleva sul suo prodotto e avevi lui cioè non potevi non avevi informazioni al di fuori della tua della tua città ok e questo me lo dicono anche i miei eccetera eccetera però anche quando ero piccolo era così quindi nel senso le info erano poche non riuscivi non io io non ho avuto internet fino a quando avevo 16 anni 15 perché qua vivo in un buco vivevo in un buco e adesso meno male che mi sono trasferito quindi il internet io non ce l'avevo quindi io mi ricordo che era che era così nel senso che andavi dalle dalle persone del paese le persone ti dicevano quello che volevano il macellaio per esempio l'ortofrutto eccetera diceva quello che il mio prodotto è il più buono del mondo prendilo tu dovevi prenderlo perché comunque era quello no cioè potevi spostare però era quello e tanto faceva il passaparola quindi il potere il potere ce l'avevano chi ti erogava il servizio o il prodotto il potere ce l'aveva il negoziante perché il cliente non aveva libertà di scelta non aveva libertà di scelta era impossibile nel post internet invece è cambiato tutto io ho scritto solo informazioni ho scritto solo informazioni perché perché le informazioni in quest'era sono tutto c'è una persona bastano due click e ti cioè si informa su qual è il prodotto migliore quindi una cosa fondamentale da tenere in testa è che le persone adesso possono comparare comparare i vostri prodotti cioè nel momento in cui le persone riescono a comparare i vostri prodotti siete fottuti perché tutti adesso hanno una pagina facebook tutti hanno la pagina instagram tutti fanno la pubblicità tutti fanno hanno l'e commerce tutti fanno tutto e avete 200.000 negozi più grossi dei vostri o comunque più piccoli che vi aprono di fianco e vi abbassano il prezzo che hanno la vostra stessa qualità di roba sì poi potete avere la carne particolare ma siamo sempre lì ok quindi adesso la gente per esempio per pigliarsi le scarpe magari non va nel negozio di di abbigliamento se la compra su internet perché magari costa meno e magari gli fanno un servizio migliore tante cose di questo di questo genere ok quindi le informazioni regnano sovrane e il il cliente adesso ha il potere cioè dovete voi pensare che adesso il il cliente cioè non potete più fottere le persone è molto difficile fottere le persone le persone adesso hanno tante informazioni e possono decidere su che cosa comprare cosa no questa è la cosa fondamentale da capire quindi punto di domanda esiste una via d'uscita soluzioni soluzioni adesso andiamo a scoprire quali sono i tre step che voi potete utilizzare per far pagare le vostre cose tanto perché abbiamo detto che la tendenza alla commoditizzazione andrà sempre così praticamente cosa succederà in un immediato futuro tac il vostro prezzo se non fate qualcosa in questo momento per fare le cose che vi dirò ok dovrete abbassarlo cioè dovrete sempre abbassarlo il vostro il vostro prezzo i vostri margini i vostri margini si abbasseranno o se tenete il prezzo uguale i margini si abbasseranno perché aumenteranno i costi dall'altra parte cioè lo stiamo vedendo come tendenza ok quindi se voi non alzate i prezzi o fate upsell poi dovete fare anche upsell poi vi rimando al al corso mago degli scontrini che adesso è fuori ancora in promozione sul sul sito poi vi metto vi metto tutti i link andrà sempre andrà sempre peggio se voi vi vi comportate come se come se come si chiama fossimo nell'epoca pre internet quindi apro la bottega faccio il prodotto migliore del mondo aspetto fumando fuori dal dal negozio che la gente entri e è bella lì faccio la mia paginetta facebook faccio quattro foto e siamo va bene ok poi la situazione è quella che è sicuramente tanta tanta gente non sta navigando benissimo adesso o comunque ha avuto un calo o comunque ha tanta instabilità delle vendite ok quindi soluzioni adesso qui andiamo giù questi sono i tre punti che andremo a trattare questa sera che ti permetteranno di alzare i prezzi a livelli di briatore quello quello che ovviamente diciamo razionalmente parlando ora perché per quale motivo gente come come briatore che sia buono che non sia buono il prodotto non stiamo qui a discutere che sia etico che non sia etico poi andate con sulla vostra coscienza allora perché una persona come come briatore riesce a fare i prezzi alti e tu no ok come alzarli ci sono questi tre fattori da tenere in considerazione allora prima cosa prodotto barra servizio unico come come guadagnate voi l'elasticità sul prezzo attraverso prodotti e servizi unici quindi come uscire dalla commoditizzazione come uscire dal fatto che tutti paragonano la roba che avete ok creando prodotti e servizi unici questa magari è la cosa più più difficile che voi potete fare perché lo so che se avete vendete frutta e verdura cioè non potete avere un elasticità di prodotti incredibili cioè non è che potete creare la nuova varietà di pesche ma sì magari la potete fare però è un po più complicato magari potete lavorare sul focalizzarvi quindi focus potete andare a focalizzarvi su un particolare tipo di merce per esempio adesso non mi viene in mente il nome c'è un brand di milano che è molto famoso davide lo saver che ci va gli piace eccetera che vende solo frutta esotica cioè in qualsiasi periodo dell'anno la frutta esotica da lui c'è la frutta esotica non ci sono altri tipi di frutta e non c'è verdura c'è solo frutta ok questa cosa gli dà gli dà la possibilità di essere percepito come il leader del settore e fa dei prezzi assurdi guarda caso perché perché loro non danno neanche esperienza che perché non fanno marketing non danno esperienza al cliente non hanno efficienza organizzativa non lo so ok questo non lo so però quello per cui loro alzano i prezzi tanto sono che perché sono focalizzati hanno lavorano sulla frutta di altissima qualità estera esotica ma di altissima qualità cioè non che se lo dicono no noi abbiamo la frutta più buona eccetera vai da loro non sbagli non sbagli neanche un non sbagli mai cioè vai a prendere la roba più buona che c'è in giro e loro fanno dei prezzi esagerati ok quindi questo è un modo per differenziarci creare un prodotto o avere un prodotto unico per esempio macelleria posso mi vengono delle carni rare ok da trattare e promuovere solo loro una cosa di questo genere una cosa è certa ragazzi più voi espandete il vostro focus più siete fottuti lo so che pensate che scusate appena mangiato lo so che pensate che come si chiama più aumentate la gamma dei prodotti che avete in negozio più attirate gusti delle persone più la gente verrà da voi più spenderà non è così non funziona così perché qui andate a pagare cose nell'efficienza organizzativa e andate a fottere il vostro brand come diceva christian prima quindi la gente non sa più perché dovrebbe venire da voi facendo un esempio newsret si è fatto conoscere per la focalizzazione il suo ristorante focalizzato sulla carne ok stick house e quando vai da lui trovi la carne dorata poi fa schifo però mette l'oro sulla sulla carta sulla sulla carne ha dei prodotti molto particolari quando vengono fatti tutti a base di carne che poi vengono anche promossi sui social oppure potete avere un servizio unico sempre la stessa cosa adesso parliamo magari di breatore quando tu entri a breatore i camerieri ti serviscono in un certo ti servono serviscono in un certo modo ok potete pensare ad un negozio che ha un'erogazione particolare di un particolare servizio che ne so una gelateria self service self service noi abbiamo avuto un cliente che ha una gelateria self service quindi la gente si serve da sola ok quindi all'esperienza di compo all'esperienza al servizio dove si compone il gelato da sola ed è più contento cose di questo genere quindi creare già dare un prodotto un servizio unico quindi basandosi sulle caratteristiche del prodotto del servizio vi alza di un pochettino non è la cosa migliore da fare vi alza di un pochettino l'asticella del prezzo ok seconda cosa molto più importante esperienza del cliente un'esperienza unica del vostro cliente il secondo step che vi permette di aumentare i prezzi ok se voi avete un prodotto unico ma anche un prodotto normale a questo punto facciamo conto che non ci sia il punto uno ma c'è il punto due ve la potete giocare con l'esperienza del cliente le persone entrano da voi che cosa succede ora noi vi dico l'idea che abbiamo avuto voi noi che abbiamo in realizzazione stiamo creando un orto ovviamente con uno studio dietro eccetera un orto frutta dove di 10 metri quadri piccolissimo dove la gente entra e trova frutta e verdura a prezzi assurdi assurdi dieci volte più più alti del prezzo del migliore orto frutta che c'è in giro ma prezzi veramente assurdi 70 euro al chilo di porcino per farvi l'esempio dove però la gente prodotto unico che è se così vogliamo chiamarlo prodotto unico perché comunque frutta e verdura è buonissima però frutta e verdura è esperienza però la gente entra cosa cosa trova trova il il commesso che non è un commesso è una persona vestita in giacca e cravatta con magari il papione quelle robe lì col bassoio d'oro che ti fa ti fa ti porta ti fa le domande ti spiega tutta la frutta e la verdura in base alla tua personalità quello che vuoi fare ti consiglia la roba migliore ti fa ti tira fuori la frutta e la verdura da dei degli oggetti da dei contenitori che sembrano delle cassaforti te la mette sul bilancino d'oro te la fa te la pesa ti dice tutto e poi ti dà la stangata finale con upsell e crossella e tu sei uscito che hai uno scontrino medio di 100 euro sto sparando a caso che adesso i conti ce li abbiamo però sto sto veramente tirando a caso però capite che una roba del genere da orto qualità come ho trovato una volta un tizio che aveva si chiamava orto frutta quali verdura qualità non mi ricordo come cazzo si chiamava dove entri tutto un euro prezzi bassi fissi tutti i giorni eccetera targettizzando una una clientela molto alta questa roba va raga va assolutamente va assolutamente perché ne abbiamo visto un sacco ne abbiamo visto un sacco andare così questa roba va perché c'è un'esperienza alla base molto che fa vivere al cliente qualcosa di superiore ovviamente non vi do il marketing che di cui poi parliamo dopo non deve essere vado a prendere tutti perché il mio prodotto si mangia e allora tutti hanno una bocca per mangiare e quindi tutti verranno aspettiamo che la gente entri non vi entrerà mai quel tipo di clientela lì se voi aspettate soprattutto ovviamente non l'aprite in una zona che avete già visto che funziona ok ci sono i modi per portare la gente da voi se volete candidatevi all'ultimo posto rimasto il protocollo anticrisi però questo è ok l'esperienza che voi date il cliente cioè quando una persona entra che cosa può vedere di voi per esempio angelo ha una bellissima bombolone ria artigianale già lui potrebbe giocarsi sull'esperienza del cliente prodotto comunque è abbastanza unico per quanto riguarda il suo territorio ma l'esperienza cliente comunque le persone e quello è la roba da comunicare tutto è che le persone lo vedono fare direttamente il bombolone poi che ne so potrebbe creare delle esperienze interattive con il cliente magari creare dei corsi di bombolone affiancarci quella roba lì ok l'esperienza è qualcosa che paga e per tornare a briatore perché lui si può permettere di vendere la roba 65 euro perché il 60 euro non è il cazzo di prezzo a cui dovrebbe essere venduta una pizza è il prezzo a cui dovrebbe essere venduta un'esperienza e le persone che lui targettizza porca di quella puttana e se siete ancora convinti che lui è un coglione pentitevi andatevi in chiesa è quella che fa pagare la pizza l'esperienza che lui offre è quella che fa pagare la pizza perché lui targettizza gente che se la può permettere innanzitutto quando vanno lì hanno per loro status non gliene frega un cazzo di 60 euro è come pagare 100 euro per andare in discoteca ai pizza che poi non ci sono mai stato nei posti più cool del momento la gente vuole il privé nelle discoteche perché si vuole sentire figa non c'è niente di incredibile c'è solo il tavolo vicino al dj e la gente che ti porta le bottiglie pagando tra l'altro e magari qualche ragazza carina che gira eccetera vuoi fare il figo per portarti dentro le ragazze quella è l'esperienza e la stessa cosa succede con breatore breatore quando va lui l'ha detto io le mie non sono pizzerie quando vieni da noi hai del uno selezione di vini che non trovi in giro quindi prodotto unico hai un'esperienza dove la gente ti serve ti serve ti riverisce piena di persone ricche status eccetera ragazzi non rompete gli coglioni dai per favore quindi questo è la seconda cosa che vi dà un elasticità di prezzo superiore a alla prima assolutamente terza cosa che è una cosa di cui nessuno parla le web agency là fuori eccetera che ti fanno il click click e tutto nessuno vi parla di questa cosa è l'efficienza organizzativa allora per efficienza ma perché porca troia ok perché l'efficienza organizzativa ragazzi efficienza organizzativa perché perché se vuoi adesso vi faccio avevo fatto il disegnino eccola qua allora l'efficienza organizzativa vuol dire in parole povere organizzare la vostra attività i processi dentro della vostra attività non marketing non cose proprio come comprate il prodotto come gestite il tempo vostro dei dipendenti come li pagate cosa gli fate fare dipendenti tutte quelle robe lì che trattiamo nel percorso avanzato come efficienza organizzativa vuol dire semplicemente abbassare i costi vostri abbassare i costi alla base quindi abbassando i costi del di quello cioè delle spese interne che avete poi c'è un modo per farlo ovviamente se volete entrare in consulenza gratuita entrare nel programma avanzato se potete entrare perché non è detto che potete entrare se siete sfigati ragazzi non 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 prendiamo casi persi è molto difficile lavorare su casi cioè gente che non fa un euro che perché probabilmente l'errore l'avete fatto all'inizio quando avete aperto è difficile se avete lavorato bene adesso avete un calo se ce ne può parlare ampiamente però non casi persi non cose di questo limite perché è molto molto meglio prevenire piuttosto che curare un cancro in fase terminale capito molto difficile stavo dicendo che l'efficienza organizzativa è molto molto importante quindi tutte le vostre spese dove state mettendo il vostro tempo in azienda cosa fate i prodotti che acquistate i fornitori che avete tutte le varie cose contribuiscono a appunto adesso vi ho fatto il disegnino e ve lo spiego che colore posso usare diciamo viola dai allora questo è normalmente questo qui normalmente com'è strutturata una cazzo di azienda normale un negozio di generale alimentare ha i suoi costi e poi ha il suo al suo margine ok quindi il margine come ho parlato appunto come ho spiegato nel video di oggi credo che sia che sia uscito lo sapete anche voi ragazzi cioè non stiamo qui a ribadirlo e alla fine quello che vi esce alla fine tolte tutte tolte tutte le spese dal fatturato che fate quindi quando vi rimane in tasca voi quindi voi avete i costi i margini aprite la vostra bottega aspettate che la gente arrivi fate clic clic su facebook quattro stranzate e avete il vostro vostro margine vostri costi e vi portate a casa i vostri soldi alla fine del mese ovviamente questo è quello che fanno tutti quindi voi avete un margine che è dettato dal mercato perché se voi lavorate come tutti per esempio avete faccio l'esempio per Laura che ha un'erboristeria o Leo che ha una bottega di caffè vende cialde ok il terzista è la persona che più ricalca questo modello una persona terzista è una persona che rivende i prodotti di altri cioè di marca tipo l'erbolario e quelle robe lì o la Illy eccetera eccetera voi avete una struttura così nel senso che cazzo il prezzo il prezzo è dettato dal mercato cioè non non avete un'elasticità di prezzo come cazzo fate cioè se voi mettete fuori il sapone dell'erbolario a 5 euro adesso non so quanto viene a 5 euro e più o meno i prezzi del mercato sono quelli chi lo fa a 4,50 se è su internet o nel negozio di fianco o l'erbolario stesso vi fotte i clienti cioè è normalissimo voi avete il prezzo che è bloccato quindi voi al netto dei vostri costi avete sempre lo stesso margine cioè è al netto ovviamente a parità di flusso di clientela perché anche lì bisogna vedere quanta gente vi arriva però avete sempre gli stessi margini cioè non cambia un cazzo sul prodotto ok diverso è invece ragazzi se applicate le tecniche di oggi quindi cosa fate? dovete entrare nella nuova modalità di lavoro che è questa qua questa è la 2.0 modalità di lavoro modalità di lavoro 2.0 in che cosa consiste? se noi abbiamo detto che questa è la parità questa parità quindi costo margine margine allora prima di tutto cosa andiamo a fare? andiamo a lavorare su un prodotto unico avrei dovuto invertirlo perché dovrebbe essere al primo step ecco quindi prodotto cosa c'è di unico nei vostri prodotti? iniziate a comunicare almeno le caratteristiche del vostro cazzo di prodotto ragazzi non potete dire oggi è arrivata la merce venite oggi è arrivato il pesce venite a prenderlo e gli fate la foto e la mettete sui social a chi chi se ne frega? cioè sarà anche bello ma la gente non gliene frega di quelle robe lì anche dovete mettere la foto per esempio mettere le caratteristiche i benefici che avranno i vostri clienti mangiando quel prodotto lì e dovete scrivere no robe tipo è arrivata la carne da noi succose prelibata frollata 60 giorni cosa cazzo vuol dire? non vuol dire niente era la stessa roba che avevo detto a Cristiano e Davide l'altro giorno quando gli ho rifatto un post non in modo così volgare e offensivo però come si chiama? era la stessa cosa nel senso che loro giustamente hanno provato bravissimi io ce li avrò sempre nel cuore anche quando morirò l'ultima cosa che penso ragazzi sarà a voi a parte gli scherzi avevano scritto questo post dove avevano abbozzato appunto le caratteristiche del loro prodotto e hanno detto qualità mondiale qualità mondiale tra le caratteristiche qualità mondiale frollata 60 giorni adesso non mi ricordo quanti giorni la carne frollata 90 giorni e poi un'altra caratteristica gli ho detto non va bene così perché se voi mandate fuori un posto di questo genere o un messaggio di questo genere oltre a tutto quello che avete comunicato che vabbè andava benissimo la gente che cosa capisce perché dovrebbe scegliere la vostra carne cioè e la loro carne è molto particolare cioè ha dei processi molto particolari di lavorazione perché dovrebbe scegliere una carne di qualità mondiale che cazzo vuol dire? non vuol dire niente poi ho capito che mondiale vuol dire che viene da tutte le parti del mondo però viene da tutte le parti del mondo non mondiale se è buona perché è buona? perché è buona? dovete fare immaginare alle persone che quando mangeranno il vostro prodotto la sensazione cioè frullata a 60 giorni cosa vuol dire? frullata a 60 giorni vuol dire che poi la carne sarà molto più tenera gustosa saporita eccetera immagina di affondare i tuoi denti nella costata e sentire la carne che si scioglie sotto i denti questo è già un modo per descrivere il vostro prodotto in maniera molto migliore ovviamente ragazzi più avete il prodotto unico meglio è cioè si può lavorare anche con roba normalissima facendo del marketing e creando un minimo di esperienze intorno però più avete il prodotto unico meglio è esperienza quindi aumentate abbiamo aumentato la soglia del prezzo abbiamo aumentato appunto il prezzo abbiamo aumentato il prezzo un'altra volta con l'esperienza quindi ci aggiungiamo all'esperienza del vostro cliente cioè aggiungiamo al vostro negozio l'esperienza che date al vostro cliente e vedrete che i prezzi volano volano li potete mettere come volete perché vi svelo un segreto ragazzi se voi alzate i prezzi e fate il lavoro bene come hanno fatto Cristian e Davide l'altro giorno che lo prendo loro perché appena ho fatto il loro esempio ok però ce ne sono tanti altri loro hanno preso il sushi che fanno tutti gli anni a un euro a pezzo hanno fatto un euro e cinquanta cinquanta per cento in più di prezzo e tu dici un euro e cinquanta non è tanto per una per una persona normale sì ok ma lo devi comparare con i prezzi in generale ok cioè se hai che ne so qualsiasi cosa aumentate il prezzo non cambia niente se lavorate bene alla gente non frega niente nulla perdete solo i barboni ma tanto i barboni non li dovete avere non li dovete avere in 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 negozio e quando perdete i barboni vedrete che lavorate anche meglio perché la gente rompe meno le palle questa è la cosa è sacro santo ora come avete visto se noi aumentiamo già il margine aumenta se noi facciamo prodotto più esperienza il margine aumenta qui era cioè prima era così cioè prima sarà stato alto così il margine adesso è alto così ma non è finita qui perché se noi ottimizziamo le procedure interne efficienza organizzativa eccetera eccetera magari abbassiamo il costo delle vostre operazioni a di un po' e quindi questa cosa vi permette di marginare di brutto cioè a voi non vi interessa troppo il prezzo in realtà cioè questo è un po' un po' un falso mito la cosa del prezzo in realtà a voi vi interessa il margine perché se se voi se da domani togliessero i cari bolletta e voi riusciste ad avere il fornitore migliore del mondo che vi dà la roba in modo a farmi marginare tanto così anche senza il prodotto e l'esperienza c'è gente che ci campa cioè per esempio nel B2B io ho lavorato nella vendita di cellulari usati al dettaglio cioè all'ingrosso scusate e c'è lì ieri un cazzo di di wholesaler nel senso che cioè vendevi ad altre aziende grosse una quantità enorme di telefoni e lì cioè l'unica cosa su cui potevi puntare non era il prodotto cioè il prodotto era una più quindi un prodotto top però tanti altri avevano il prodotto a più cioè il cellulare è un cellulare un iphone è un iphone è un terzista cioè un mega terzista abbiamo lavorato sull'esperienza e sul costo perché già facevamo marketing allora sul costo del tutto ok il mio capo aveva fatto una roba geniale era andato a diciamo aveva fatto non dei magheggi ma comunque delle robe legali che gli permettevano di pagare meno tasse fare varia roba eccetera quindi lui aveva aumentato diminuito il costo delle sue di come acquistava i telefoni alla fine di come di quanto ci smenava acquistandosi i telefoni il suo margine era si era alzato e in più aveva creato il miglior sistema resi in Italia cioè in Italia in Europa e questo gli permetteva di essere una spanna sopra tutti gli altri suoi competitors ok poi ovviamente bisognerebbe fare un discorso su quanto sia copiabile tutto quello che fate però se fate le robe bene ragazzi non c'è non c'è trippa per gatti ora qui vedete una freccina avendo più margine cosa vi permette di fare quando fate tutta questa roba qui quando avete più margine ragazzi potete fare una cosa che oddio è sconosciuta si chiama marketing quindi spendere soldi per acquisire più clienti e questo vi permette di aumentare la quantità dei vostri clienti poi potete fare upsell potete fare cross sell guardatevi mago degli scontrini che è un corso da madonna quantità quantità potete anche aumentare la qualità 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 dei soldi che fate con i vostri clienti appunto facendogli spendere di più e questa cosa vi permette di volare con la vostra attività volare cioè diventa una macchina automatica però raga se voi anche aumentate i margini ma poi non li reinvestite cioè e ve li mettete in tasca perché siete ingordi volete tutto e subito e volete guadagnare tanto nell'immediato e ovviamente fate un botto di nero e tutte quelle puttate lì non funziona vi faccio uno spoiler aspetta un attimo vediamo se c'era altra roba no non c'è altra roba però vi faccio uno spoiler ragazzi quindi è un è un video che uscirà tra qualche settimana però io lo ve lo ve lo posso fare qui ci sono due modelli di crescita di un'attività orizzontale questo è il frutto delle migliaia di euro che spendiamo tutti i giorni tutti i giorni ogni anno per voi quindi orizzontale e verticale allora i modelli come i vostri adesso non vi spiego tutte le due robe i modelli come il negozio di igiene alimentari non ci sono santi che tengano ragazzi non ci sono santi se voi volete veramente fare le cose bene già meno l'azienda agricola perché comunque l'azienda agricola ha tanti tipi di business cioè ha tante robe dentro cioè ha la vendita al dettaglio la vendita all'ingrosso ha tante cose che può fare all'affitto magari di terreni può fare tante cose però un negozio di igiene alimentari un'ortofrutta un'azienda una gelatteria eccetera eccetera ha dei modelli di espansione orizzontale il che vuol dire che se voi avete un negozio quello che voi dovete fare se ne avete solo uno è quello di ottimizzare quanto più possibile il vostro primo negozio renderlo autonomo quindi creare tutto questo processo qui per farlo andare con le sue gambe senza che voi stiate dentro 12 ore al giorno a rompervi il cazzo perché tanto non dovete fare la carne o la pizza o quello che volete ragazzi non è il vostro lavoro quella roba lì prima o poi dovete avere la testa che vi dovete espandere per veramente guadagnare tanto in questo business qui ne dovete fare tanti cioè ne dovete fare tanti tanti vuol dire che vi espandete orizzontalmente quindi creare altri punti vendita uguali a questo una volta che voi avete fatto il primo poi ovviamente cioè bisogna prendere con le pinze questa roba qui una volta che voi avete fatto il primo e noi ne abbiamo seguiti di aperture nuove è molto semplice poi a replicare quelli vecchi soprattutto se vi mantenete in un'area che conoscete cioè è molto molto semplice questa cosa qua modelli di espansione verticale ne parleremo in un'altra live ragazzi fatemelo sapere se volete sapere come espandere il vostro negozio in verticale che vuol dire per esempio avete un negozio siete i migliori pizzaioli del mondo pizza cosa fate per aumentare il vostro fatturato la vostra crescita cosa fate non decidete di aprire altre cose non che cazzo è successo ok non decidete di aprire altri negozi ma cosa fate se siete un bravissimo pizzaiolo create un business un diciamo un'attività parallela connessa alla vostra attività già così ovviamente una volta che è tutto automatizzato dove vendete per esempio videocorsi su come fare la pizza alle persone normale questa cosa vi permette di vendere all'infinito cioè è come la roba che facciamo noi cioè quello che fa la differenza in un business ho scritto come un pakistano appena arrivato in Italia non me ne vogliono i pakistani sto dicendo chi è appena arrivato in Italia anche un italiano appena andato in Spagna che non sa lo spagnolo stessa roba marketing l'unica variabile thing l'unica variabile che permette a questi business di espandersi quanto più possibile è il marketing quindi più soldi io metto dentro all'attività tipo quella di consulenza cioè io non ho costi fissi particolari basta che metto tanti soldi ma ne mettiamo tanti di soldi ok in pubblicità e questa cosa ti porta il business verso l'alto ovviamente poi ti devi organizzare bene prendendo altra gente io non abbiamo fatto delle scelte però questo è il business ad espansione verticale non è meglio uno o l'altro perché per esempio questo qui una volta che è fatto è molto delegabile e in realtà voi potete uscire dal vostro negozio molto bene con un business di questo genere questo è più difficile anche perché questi sono cose business molto più ricorsivi tendenzialmente e qui gioca tutto non tanto il marketing quanto appunto queste due robe prodotto esperienza costo poi dopo il marketing è una cosa che voi dovete assolutamente implementare per alzare quel cazzo di prezzo ragazzi è molto importante ora credo di aver finito lo spiegone spero che sia stato interessante nessuno è rimasto qui a a seguire sto scherzando ragazzi ho disattivato avete seguito la presentazione ragazzi non è che era c'era condivisione schermo no datemi un segnale mi confermate che ho eliminato adesso la condivisione schermo o non avete visto un cazzo ragazzi mi serve chiunque sia lì chiunque sia lì mi deve dire se ha visto la presentazione dello schermo anche se siete timidi perché mi serve sapere se non ho parlato a vuoto per un'ora perché se no sarebbe veramente una tragedia come non avete visto nulla no non ci credo ragazzi ma veramente no dai non ci credo state prendendo in giro come non si è vista no ragazzi veramente no raga vabbè vi faccio ma veramente cazzo avevo condiviso lo schermo vabbè comunque vi faccio ve lo condivido adesso almeno vedete cosa ho scritto porca puttana ragazzi ho fatto un pasticcio eccola qui ho fatto un pasticcio porca vacca la live più inutile di sempre eh ho fatto ho fatto un pasticcio guardate vabbè comunque mi avete mi avete sentito ho fatto un po' di disegni intanto mi spiace che non abbiate sentito almeno almeno riuscivate a visualizzare le cose porca eva ma potevate dirmelo ragazzi ragazzi potevate dirmelo allora vabbè a parte a parte tutto vedete qui il disegnino che vi ho fatto questo qui è il disegno del costo margine se voi abbassate i costi i margini si alzano qualità quantità marketing quello che vi ho spiegato ok spero di essere stato chiaro mi spiace porco giuda raga mi spiace di non aver condiviso e vabbè capitano gli errori e amen vedi ho fatto avevo fatto dei disegni bellissimi ragazzi guardate che spettacolo che bei che bei disegni che avevo fatto vabbè poi ve la rivedete indifferita magari e vi tirate giù un po' di di appunti porco giuda vabbè ragazzi comunque se voi avete delle domande fatemele se voi non avete capito qualcosa dato che non ho condiviso rimuovere mi ero fatto tutte le i disegni prima eccetera e non ho condiviso una sega incredibile sono veramente un genio vediamo chi ha detto che il briatore è un grande eccetera che qua non vedo niente ragazzi se volete se avete delle domande fatele mi raccomando porco giuda ho fatto un errore imperdonabile ragazzi imperdonabile incredibile dai ragazzi fatemi fatemi delle domande sono qui per voi qualsiasi cosa è lecita su come alzare i vostri prezzi se volete dichiarimenti cose varie vi vi condivido magari gli schizzi da da qualche parte in pdf magari anche se cioè vabbè ci voleva un minimo di attenzione so che è stata un po' difficile da seguire perché ovviamente poteva essere un po' più dinamica la cosa e porco giuda dai fatemi sapere un attimino che cosa cosa ne pensate se anche voi avete il problema dei prezzi in questo momento così almeno capiamo bene come magari andare a risolverli magari possiamo fare delle come si chiama degli esempi se mi date degli esempi in diretta magari li possiamo elaborare comunque l'avete capita costo trucco è organizzare quindi abbassare il costo e metterci su i tassellini dell'esperienza e del prodotto unico molto molto importante pensatela che cosa potete aggiungere come esperienza quando la gente entra nel negozio poi non dite no ma poi se faccio così la gente scappa non ho mai fatto così e allora fatelo un test perché vedrete che le cose funzionano bene cioè se seguite io lo dico sempre chi segue i percorsi al 100% ottiene risultati e ne sono conferma tante persone Vincenzo Carlo e Marta Cristian Andrea tanta gente tanta tanta gente Valerio tanta tanta gente Davide e poi andate a vedere testimonianze su YouTube o quello che che volete ragazzi volete volete che chiudiamo dai fate un po' di domande mi spiace del disguido sono molto mortificato di questa cosa molto mortificato probabilmente dopo piango se se volete provare magari adattiamo insieme le cose alla vostra attività se no io stacco prossima volta dovete dovete avvisarmi prima se no non si è capito lo stesso va bene dai grazie Angelo almeno almeno te almeno te abbiamo capito ragazzi se non ci sono altre domande io chiudo spero che vi sia servita spero che sia stata interessante questa questa live e ci vediamo poi con altre cose in settimana mi raccomando adesso vi condivido magari il link per candidarvi all'ultimo posto perché vi ricordo abbiamo ancora un posto disponibile ce l'avete anche nei commenti qua abbiamo l'ultimo posto disponibile per il prossimo avviamento perché c'è Andrea che è uscito ok grazie mille non so chi tu sia perché non vedo i nomi ok Christian ok però non potevi mettermi in per due stavolta porco Giuda perché live non si può mettere in per due la cosa aspetta che vi allego un attimino il link almeno se volete potete candidarvi quindi vi ho messo la sessione e eccola lì nei nei commenti trovate appunto la come si chiama possibilità di candidarvi ad una sessione strategica gratuita per vedere se riusciamo a collaborare insieme vi diamo qualche consiglio magari per mettere a posto la vostra attività e e nulla fatevi questo favore raga perché tanta gente ne sta avendo beneficio in questo periodo qui è un po' un periodo del cazzo siccome la gente va a a dormire si a dormire in vacanza se ne va si svuotano i paesi e magari si guadagna meno per gli aumenti di prezzo magari il percorso vi serve vi ricordo che c'è un posto quindi non è cose tipo scarsità e cose di questo genere un posto perché se ne è liberato uno detto che l'altro ragazzo settembre rinizia allora vedo che ci sono ancora quattro persone collegate se volete parlare fatelo pure che tanto qua siamo siamo in famiglia ormai voglio voglio fare una una live con con Gerardo il nostro copywriter dove spieghiamo come fare stavolta saranno tutte tecniche gratuite ma proprio tecniche applicabili da domani su come fare community marketing quindi come creare un gruppo facebook privato e catalizzare diciamo l'attenzione nel gruppo privato per fare un po' quello che sto facendo io con voi nel senso fare le live come farle però per voi sarà molto più semplice perché comunque vendete cibo quindi è molto più semplice fare le live ok non dovete metterci un'ora a fare le live potete fare delle live di dieci minuti dove spiegate i vostri prodotti e sarà a chi piace l'idea tanto siamo solo in quattro e vi posso facciamo una una lezione sul community marketing quindi come creare un pool di persone interessate alla vostra attività del vostro paese che magari o nella vostra area che si interessano appunto del che ne so piace la frutta e la verdura di un certo tipo oppure gli piacciono i dolci di un certo tipo e li potete far appassionare cioè la gente che creava i gruppi del calcetto e poi vendeva la carne non so perché io avevo visto una roba del genere potete creare il gruppo dei grigliatori e spiegare alla gente come grigliare questa è un'altra cosa per quanto riguarda l'espansione verticale che vi condivido lo schermo ancora poi me ne vado perché vi ho già rotto le palle condivido lo schermo aspettate raga spegni schermo condividi condivido qua angelo ho notato un netto calo di riscontro utilizzando facebook è la mia impressione e allora angelo se tu stai parlando delle pubblicità te l'avevo detto nel senso che devi un po' cambiare non ho più visto cosa hai fatto però devi cambiare le creatività cioè il tipo di cose che fai cioè ci devi anche mettere la faccia prova a fare delle ad falle sempre a traffico come hai sempre fatto che comunque a te andavano bene fai delle ad a traffico dove però ti filmi dove fai vedere il bombolone cioè ti fai filmare mentre fai il bombolone fai un po' di video di quel tipo lì in magari un giorno dove sprechi tra virgolette del materiale del prodotto giusto per girare i video però almeno ti sei fatto tanti video che puoi riutilizzare come pubblicità se è quello che mi stai dicendo ok per invece la pagina eccetera la tua pagina andava sempre da dio ovviamente la novità è andata il community marketing è qualcosa che può andare molto bene ti sei spostato sui risultati sono diversi anche cioè può anche essere il il cambio di canale però ricorda che i canali prima o poi si saturano quindi prova a rifare facebook fai un test facebook ma metti invece del solito bombolone perché tu mettevi sempre il bombolone le cose così prova a metterci la faccia fai questa prova secondo me è una cosa che può tirare e anche creare un gruppo facebook un gruppo un gruppo proprio facebook di gente appassionata quella roba lì dove ovviamente bisogna intrattenerla con delle informazioni magari un pochino utili è un'altra cosa che secondo me è molto molto efficace non rubarmi l'idea non ho idea di chi sei però probabilmente a Davide ok grande Davide devi farla devi farla no anche te Davide devi ah no tu ce l'hai tu ce l'hai il gruppo cazzo ci stiamo parlando però devi fare devi usarlo meglio secondo me e niente faremo faremo questa cosa qua e nulla ragazzi io direi ci salutiamo se non c'è nient'altro da dire scusatemi per l'inconveniente della 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 condivisione schermo e ci vediamo alla prossima puntata buona serata arrivederci grazie 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 grazie